Qual è l'impegno vostro per la protezione? Noi adesso siamo stati attivati dal comune di San Ferdinando, comune di Cosoleto, dove facciamo l'assistenza alla popolazione. Siamo preso la tendocchia sulla zona industriale di San Ferdinando. Adesso portiamo alcune medicinali e vivere di prima necessità e stiamo andando al porto perché c'è un'imbarcazione che con questo maltempo ha dovuto fare un'emergenza come sosta al porto di Gioia Tauro. Quindi con tutti i criteri che hanno preso già la capitanina di Porto, queste persone da due giorni sinceramente che non hanno la possibilità di poter mangiare. Quindi questa mattina stiamo provvedendo a portare sia il mangiare sia le medicine. Dico che dobbiamo tenere duro perché noi ce le faremo. Ci sono alcuni casi, noi aggiorniamo tutti i giorni tutto quello che sta succedendo nella provincia di Reggio Calabria. Alcuni casi che noi abbiamo visto, nella provincia siamo già a 88, quindi 88 casi positivi che si sono registrati in varie parti della provincia di Reggio Calabria. Gioia Tauro, San Ferdinando, Cosoleto non ci sono casi per adesso registrati di coronavirus. Dobbiamo soltanto tenere tutti quanti insieme, stare a casa e avere un controllo. Quanti uomini volontari ci sono in questa situazione? Adesso abbiamo distribuito in queste zone, siamo più di 25 unità. Facciamo i turni fino alla sera alle 9 e poi sinceramente fino alle sera alle ore 21. Facciamo questi turni perché la zona è abbastanza larga, è abbastanza grande. Quindi chi ha bisogno chiama voi e voi chiama gli angeli di questa gente che ha bisogno? Allora, ogni comune ha predisposto un numero di telefono e insieme ad altre associazioni siamo messi in questo comune dove hanno costituito il COC, Centro Operativo Comunale, che serve per l'emergenza in questo coronavirus. Loro chiamano, andiamo nelle abitazioni, specialmente le persone che stanno male, specialmente i malati di tumore, che noi anche come Presidente dell'Associazione dei Contri Tumori facciamo questa opera a portare queste mascherine alle persone che stanno ammalate a casa. Non possono uscire, però si devono coprire e devono stare a casa e essere attenti a qualche contagio anche dei familiari. Questa è la nostra paura. Però per il resto è tutto sotto controllo. Ci vuole la buona volontà della popolazione, la buona volontà delle persone, perché così, se noi siamo tutti uniti, possiamo sconfiggere questo mostro. Oggi è lunedì 23, però Gioia Tauro vediamo troppa gente in giro, troppe auto. Oggi è lunedì, però tutti quelli, siccome il decreto che ha fatto il sindaco è stato un decreto un pochino ristrettivo, anche perché, grazie anche a questo decreto, le uscite sono pochissime. Oggi la maggior parte devono andare o a fare la spesa o andare nelle farmacie. Quindi la gente è tantissima. Noi contiamo Gioia Tauro, che sono 20.000 abitanti. Quindi in percentuale queste macchine potrebbero essere giustificate, ma non tutti. Voi fate tutto questo gratuitamente? Tutto gratis, senza essere retribuiti. Mettiamo i soldi noi per la benzina, compriamo un panino noi. Per esempio, per quanto riguarda le mascherine, devo ringraziare qualcuno che li sta facendo. Adesso ce l'hanno regalato per i malati tumori la panetteria d'Agostino, quei ragazzi, si sono messi loro, che era domenica ieri, e ci hanno fatto 100 mascherine. 50 ce l'hanno consegnata adesso. Ora andiamo nelle famiglie, che io ho un elenco, a mano a mano che gli do la mascherina, prendo nome e cognome della persona che gliela do, alle persone che stanno male a casa, non alle persone che stanno bene per uscire. Perché per uscire non si può uscire. Deve uscire un solo rappresentante della famiglia, una sola volta al giorno. Inutile che vanno in giro per 5-6 volte, comprando un pacco di pasta, un pacco di patatine, così con la scusa per uscire. Voi avete la scusa per uscire, però mettete a rischio le persone che hanno questo coraggio di stare a casa.